Dunque signori, oggi volevo fare un video per parlarvi di una cosa di cui di solito non si parla molto e cioè vorrei rispondere alla domanda se i consigli classici di seduzione funzionano al 100% cioè diciamo che in seduzione quando tu entri su vari canali italiani, americani eccetera eccetera viene ripetuto in buona sostanza un mantra e in genere quello che si cerca di insegnare e come, e questo è un qualcosa di corretto per tutta una serie di motivi che non sto a spiegare qui perché l'ho spiegato da tante altre parti ma si cerca di spiegare come in realtà sedurre la ragazza il più inferta possibile come filtrare ragazze che sono più interessanti a questo scopo eccetera eccetera cioè quindi come fare quella che potremmo definire, permettimi questo termine, diciamo soluzione rapida ok? ora la vera domanda è però, la vera domanda di questo video questo mantra è sempre vero? rispondo a questa domanda in questo video prima di cominciare però ti ricordo una cosa molto importante vienimi a trovare sul canale Telegrangio di Lorenzo lì informazioni molto più avanzate, meno politicali corretti eccetera eccetera e ne... insomma, e lì ti dico cose che qui non posso condividere con te quindi partiamo da questo video di questa, penso, dating coach femminile in buona sostanza che parla di otto grandissime green flags nei ragazzi cioè in buona sostanza se hanno queste caratteristiche tu, lei si riferisce alle donne, ovviamente dovresti uscire con lui e in realtà ci sono tutta una serie di dating coach di questo tipo per donne ok? quindi in buona sostanza vedrai io ho preso un video completamente a caso ma voglio mostrarti una cosa, anzi ti incito per cercare di allargare quella che è la tua comprensione di queste dinamiche a guardare anche altri o altre il più famoso è Matthew Hasse ma di guardare altre persone che danno consigli in questo senso perché allargerà un po' quella che è la tua visione delle cose in marketing si dice una cosa che mi rendo conto di essere un brutto paragone però è un paragone che rende bene l'idea se il pesce vuole il verme si dice in marketing bisogna dargli il verme cioè in buona sostanza si dice se il cliente vuole qualcosa bisogna dargli quel qualcosa per attrarlo quindi risulta evidente che in molti di quelli che sono dei consigli dati per portare subito una donna a letto velocemente sono anche gli stessi consigli che repelleranno un altro tipo di donna questo vuol dire che tu hai lo scelto in buona sostanza o targettizzi un certo tipo di donna che per te è più interessante e in quel senso la seduzione è un processo di filtro meglio sarà sempre un processo di filtro ma puoi fare filtri più larghi o filtri più stretti oppure se ti piace una ragazza che è interessata ad avere un ragazzo è evidente che le caratteristiche che questa posto che le devi sempre piacere però è evidente che le caratteristiche che questa considererà più interessanti non sono quelle di quella che cerca un tizio per un'avventura quello che molti studenti non capiscono infatti recentemente ne è arrivato uno da me e io ho risolto il problema molto in fretta poi prima o poi metterò sulla testimonianza è che il consiglio classico del pick up della seduzione eccetera eccetera è come scopare in fretta perché ovviamente se non scopi in fretta una ragazza che vuole essere scopata questa si fa scopare a qualcun altro e nel tempo la seduzione si è sempre più mossa verso questo tipo di di donna nel senso che inizialmente con i primi testi le cose non erano esattamente così in ogni caso voglio prendere queste otto insomma grandissime green flags di cui questa parla e potrei aver preso qualsiasi altro video e sarebbe stata la stessa identica cosa per farti vedere che in buona sostanza il consiglio o i consigli cambiano completamente rispetto a quelli di approccio definiamolo così seduttivo cioè lei dice in buona sostanza quali sono queste otto green flags da cercare nel ragazzo poi come tu sai benissimo questi titoli sono sì titoli dati alla cazzo di cane per redonarmi il termine nel senso che non è che ce ne sono otto che sono le otto più importanti come i dieci comandamenti ma in quel video ce ne erano otto potrebbero essere cinque, sei, sette non c'è una graduatoria di importanza ok? sti video sono fatti un po' così alla cazzo di cane ripeto per il grande pubblico però questo ti fa vedere la grossa differenza cioè fra i due tipi di mercati cioè quelle che in gergo tecnico chiamiamo donne R o K selezionate R o K selected ora non mi perdo in questa spiegazione qui perché se no facciamo notte però in buona stanza parliamo di una differenza che potremmo definire fra brave ragazze che cercano una reazione versus ragazze avventurose che cercano il sesso vediamo quindi questa nello specifico che consigli dà per una per le ragazze che quindi stanno cercando un ragazzo da adeitare da uscirci insieme da farci una reazione tutta quella roba lì ok? il primo vabbè puoi spegnere la tua mente quando sei con lui che significa un cazzo non ci interessa però ha una visione insomma di quello che vuole fare comunica gentilmente disciplina sessuale che penso si rifaccia al fatto che non prova a bombarti subito ok? tira fuori il lato migliore di te fa cose che migliorano la tua vita ha intenzioni chiare con te e non ha paura in buona sostanza di parlare di quello che è il futuro ok? ora se tu analizzi questa lista in realtà e non sto dicendo che queste sono necessariamente le caratteristiche che tu dovresti mostrare a una ragazza con una reazione nel senso che lo dovrò spiegare in un altro video perché questo non è il video adatto in questo video volevo solo iniziare a farti ragionare su questi argomenti ma quello che stavo cercando di dirti è che se tu analizzi questi otto punti praticamente quando guardi i video di un aperte virgolette seduttore sono quasi peccati mortali no? quindi la domanda è a questo punto chi ha ragione? nessuno ha ragione il target io ripeto abbiate pietà di me social justice warrior signori youtube tutti quanti sto facendo una metafora in termini di marketing sapete che io paragono le dinamiche seduttive le dinamiche di vendita e quindi in questa metafora in buona sostanza non c'è sempre un approccio o un pitch standard ma l'approccio deve essere o camaleontico cioè nel senso che tu in buona sostanza poi ovviamente io disclaimer ti devo dire di usare questa roba con coscienza di usare queste robe solo con ragazzi quella ver bla 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 ciò nonostante il concetto di fondo è che o tu diventi camaleontico e il pitch cambia completamente e quindi le caratteristiche che tu mostri alla donna che si trovi di fronte cambiano completamente a seconda di quello che lei vuole comprare ok oppure in buona sostanza tu applichi un sistema di filtro molto più forte che di solito è un filtro che si applica a donne che vogliono stesso in fretta ma non è eccessivamente vero perché ci sono magari ragazzi che vogliono solo una relazione quindi potrebbero mostrare altre caratteristiche che alienano questo primo tipo di donne che per esempio un gioco di Lorenzo considera più preferibili ok però o tu applichi un filtro che tende a filtrare molto di più e ovviamente a seconda di quanto vuoi avere solo avventure quanto vuoi che queste siano il più in fretta possibile il filtro diventa sempre più sempre più stretto oppure se vuoi essere diciamo il più statisticamente performante possibile devi modificare completamente il pitch quantomeno a seconda che ti trovi di fronte a una ragazza avventurosa o una brava ragazza questa è spiegata pane salame nel senso che c'è una maxidivisione fra ragazza avventurosa e brava ragazza in realtà le cose non sono mai così semplici e ci si muove all'interno di quello che è lo spectrum l'over provider che è un continuum con diciamo 50 sfumature di grigio permettimi la metafora e questo francamente non lo so ragazzi se è un qualcosa che spiegherò su youtube se sono particolarmente buono non credo o se spiegherò da qualche parte a pagamento nel senso che molti di voi mi avete contattato e mi avete detto perché io qualche volta avevo già accennato al fatto che bisognasse avere dei pitch differenti a seconda del tipo di ragazza a cui ci trovavamo di fronte e alcuni di voi mi hanno scritto dicendo sì Joe bella storia ho capito grazie al cazzo ci arrivano tutti a capire che due ragazze che vogliono qualcosa di completamente opposto vanno per rigolette sedotte in maniera o conquistate usa il termine in maniera differente ma nessuno spiega come farlo in realtà non è qualcosa voglio dire per cui ci vuole la zingara però mi rendo conto che se uno è abituato solo a utilizzare quello che gli viene imboccato dalla community a queste cose non ci arriva e quindi di conseguenza in futuro prevedo di fare qualcosa di questo tipo nel frattempo ti ricordo iscriviti al canale Telegram Giody Lorenzo e se vuoi intanto iniziare ad allargare quella che è la tua diciamo visione del fatto che non esiste solo un mercato di donne anzi non è assolutamente vero ma se vuoi allargare la tua visione relativamente al fatto che non esiste ahimè io dico ahimè perché sarei più felice del contrario ma non esiste solo un mercato di donne che sono interessate al prototipo di uomo prodotto o suggerito o sponsorizzato dall'industria della seduzione ti conviene guardare anche quello che è l'altro lato della medaglia nel senso che fondamentalmente se tu guardi le due industrie quella per l'uomo è scopa 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 e quella per la donna è come cazzo si dice accalappia 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 l'uomo migliore che ti puoi permettere come vedi c'è una a livello macro una totale differenza fra i due mercati e quindi di conseguenza tu puoi assolutamente applicare quello che il modello proposto diciamo della seduzione la definisco in questo momento pane e salame tanto per capirci oppure devi ampliare un po' quella che la tua comprensione di quelle che sono anche le dinamiche dall'altra parte e metterti nella prospettiva della ragazza perché soprattutto in un momento in cui queste sono strabombardate fino a sopra i capelli ovviamente se tu non riesci neanche a capire quello che stanno cercando di comprare allora diventa più difficile venderlo qualora tu lo voglia fare quindi per oggi è tutto ti ho dato un po' di food for thoughts cibo per i pensieri come si vuol dire vieni a mi trovare su telegram canale Gio Di Lorenzo link in descrizione